Passatempi per grandi e piccini con i quali tutti possono divertirsi senza ricorrere all'attuale tecnologia. Nascono da questa idea gli appuntamenti mensili al Circolo Il Giardino in via Roma a Figline da parte dell'associazione Crea Mangia Gioca, che appunto così avvicina le generazioni, visto che molti di questi giochi non hanno certamente età. Queste serate ludiche stanno prendendo sempre più forma e struttura. C'è una pagina Facebook che potete visitare che si chiama Crea Mangia Gioca. Lì potete aggiornarvi sulle prossime date in cui ci incontreremo. Ad esempio le prossime saranno il 24 marzo e il 21 aprile presso il Centro Sociale Il Giardino in via Roma a Figline. Vi aspettiamo numerosi. Riunire le famiglie, cioè nel senso di far giocare i bambini con gli adulti. Questo è un nostro principio che di solito gli adulti stanno da sé, i bambini giocano da sé. Anche per contrastare un po' il gioco elettronico, il gioco d'azzardo. Insomma, qui si gioca e ci si confronta, ci si guarda in faccia. La partecipazione agli eventi è assolutamente gratuita per qualsiasi informazione. C'è appunto lo spazio social di Crea Mangia Gioca.